Venezia, 66, 7, 18, 18, 20, poi Ampalo, 23, Cepitelli, 25, Terini, 27, Candela, 44, Carboni, 55, Christophe, Sessione, Malepa, Bertinato, Busio, Novakovic, Joseph, Ciervo, Cercice, Svoboda, Andersen, Busato, Milanesi, Pichetto, allenatore Paolo Manoli. No, non è così, non è così, non ho senso a dare un giorno, ma chi è che le dite così? E spettate, si rimane che ha più piccolino, com'è un'altra, non credo, perché lo c'è sarà più piccolino. Grazie a tutti.